E' fortissima, sapete che non si sa chi l'ha definita? Questo si chiama il maestro di San Severino, perché questo è un San Severino. Uno pregava davanti al San Severino. Però è bellissimo per me, sta figura, è tremenda. Non lo so se è per voi lo stesso. Guarda un po', guarda, ti guarda. E' autoritaria, è autoritaria però. E' autorivole, è autoritaria. Autoritaria, perché è ancora più forte di autorività. Sì, è. Più marcata ancora. Sì, però è anche autorivole perché ce lo merita di essere autoritario. Il volto è autoritario. E' assani. E' anche questa pano, che è fatta benissimo, che dà l'idea dello spazio, a che modi sta andando verso. Questo è bellissimo. Per me è bellissimo, eppure nessuno lo conosce. Nel libro di storia dell'arte non c'è. Quando è venuto Sgarbi a guardare rapidamente, l'ha saltato proprio. Per me è una cosa meravigliosa. Ma tu lo vedi o no? Questo è vivo. Questo a un certo punto si sta facendo una bella stellata. come a dire, come a dire, andando non vai mai a casa. Grazie.